Ciao a tutti e benvenuti all'esperienza multigiocatore di Call of Duty Black Ops 3 su PlayStation 4. Abbiamo Mario Balotelli, applauso, Ignazio Abate, Alessio Cerci e il Torino Bertolacci. Allora, loro giocheranno assieme a otto youtuber gamers bravissimi italiani. Mario sceglie, vai. Chi scegli prima? Gabbo. Gabbo. Ron. Ron. Vai. Frax. Frax. Mischio. Bravo. Mangano due giocatori. Bravo Mario. Dai, vai. E... Geo. Ti piace il calcio Geo? E va bene, iniziamo a giocare a Call of Duty Black Ops 3 su PlayStation 4 mi raccomando e cerchiamo di divertirci in modo sano e sicuro. Spara Cerci. Dai. Mamma mia. Ma perché ho solo quattro colpi? L'ho fatto prendermi. Mario ha ucciso uno. Era Cerci quello. Mario! Mario non sta aiutando per niente la squadra, ve lo dico eh. Mario torna Mario. E sparalo Mario! Bravo l'ha ucciso. Questi sono i due amici Mario, non sparate. Perché non segui i due amici? Ricarica. Bravo. Sto piacendo Franky. Ignazio spara sei colpi e ricarica per farmi felice. Eh lo so. Occhio dietro, occhio dietro. Buttati giù per me dai Ignazio. Buttati giù, fallo per me dai. Guarda la camera, se vengo moro. Mario ha appena ucciso uno, bravissimo. Spara! Bravo Mario. Prendere la palla. Sì qui, dove stai? Lo fanno di pesa qui. Sto dentro alla porta io. Mario vai a prendere la palla. Ignazio ti prego fai un'uccisione, una. Una sola. Ha detto che sta in copertura. Spara questo tuo amico. No Ignazio. 2 secondi per provare l'ultima. Oh! 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 È ufficiale. La squadra di Mario Balotelli ha vinto questa partita al multigiocatore di Call of Duty Black Ops 3 su PlayStation 4. Però sono stati tutti bravi. Soprattutto Ignazio che è riuscito a fare zero uccisioni e 17 morti. Allora è finito qui la nostra giornata incredibile di duro lavoro perché il nostro lavoro ne ha già miseria. Arrivederci e grazie a tutti.